Saldo estralcio, come è possibile ridurre i propri debiti dal 50 al 90%? Il saldo estralcio è una tecnica con la quale c'è la possibilità di andare a estinguere il debito dando una somma inferiore al creditore, alla banca e alla finanziaria. Ad esempio, mettiamo caso che tu hai un debito di 30.000 euro, magari si paga soltanto 10.000 euro e si cancella l'importo del maggior debito, quindi si stralcia quell'importo. Per cui a fronte di 10.000 la banca accetta di rinunciare ai 20.000 che avrebbe potuto prendere evitando di farti causa. Se c'è un debito che ti trovi ad avere con banche finanziarie, sicuramente la tecnica del saldo estralcio è un'ipotesi fondamentale da tenere in considerazione per andarsi ad alleggerire dei propri debiti. In alcuni casi è possibile anche fare un saldo estralcio a rate, quindi c'è la possibilità di ridurre il debito totale ma pagare anche a rate.